Noi abbiamo una barella che in realtà non c'è se non è operativa e il momento in cui diventa operativa è una barella che può ospitare completamente la persona. La massa della barella stessa è irrilevante perché pesa circa 9 kg per cui dal punto di vista tecnico alla navigazione non dà nessun tipo di problematica. La si può ripiegare senza problemi e a questo punto noi abbiamo un oggetto che è pronto all'utilizzo ma in realtà dal punto di vista di navigazione non ci dà nessun tipo di problema. Quando è operativa essendo a livello di galleggiamento il pericolante non ha nessun tipo di difficoltà a salirci sopra e supporta un peso di oltre 150 kg. Da test che noi abbiamo effettuato sei persone sdraiate sopra riescono a starci senza grossi problemi quindi come aiuto al galleggiamento nel caso di problematiche di un natante che è in avaria che è in difficoltà o che sta affondando è pronto ripeto come aiuto al galleggiamento perché può essere staccato dalla barella stessa con dei moschettoni a sgancio rapido e avere come detto prima un supporto galleggiante indipendente dalla moto quindi la moto rimane in ogni caso operativa per ulteriore problematiche pericolante